La Guardia Costiera italiana è oggi una realtà che eccelle per efficienza e professionalità, segno inequivocabile che il nostro impegno prosegue sulla giusta rotta. Tra le nostre priorità c'è quella di continuare a garantirvi la migliore formazione, gli strumenti e le condizioni per svolgere al meglio il nostro prezioso lavoro al servizio degli altri, sempre. Il mondo cambia rapidamente e noi dovremo farci trovare pronti. Solo così potremo affrontare le sfide del futuro. Sono molto orgoglioso per quello che fate e per come lo fate. Da parte mia sono fiero di essere il vostro quarantesimo comandante generale e vi ringrazio dei sacrifici che fate quotidianamente. Oggi e domani il nostro obiettivo sarà quello di continuare a crescere insieme e con noi far crescere le capitanerie di porto, guardia costiera, al servizio del paese marittimo per eccellenza. L'Italia 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 L'Italia